Abbiamo perso però gli autografi di firmi dopo. Cos'è mancato per riuscire a portarla a casa? Allora, nell'ultima azione è mancata un po' la concentrazione di fare quello che aveva chiesto perché abbiamo fatto un po' diverso. Per il resto forse un po' la grida per sorpassarli nella fine del quarto. Ok, ti ringrazio, sei gentile. Ciao, bocca al lupo!